La nella terra dove muore la stagione parlava il più importante e dava inizio alla riunione e c'è che l'ambiente si dimostrava strano, là il più bastardo regnava sovrano e di parlare l'ha concesso a tutti quanti, non si decideva l'avvenire dei presenti e a quel punto che John chiese di parlare, di spogliarsi nudo e poterlo dimostrare affermatelo è lui l'usurpatore, è lui che tradisce, è violenta il pudore e che i cendarmi si diano da fare, sono cose su cui non si può scherzare qualcuno potrebbe vedere ed andare a riferire e a quel punto John fu legato forte, pronto alla giustizia che gli diede la morte ed il suo volto morto fece accusa a tutti quanti, fece un gran sorriso e dei più giganti poi aprì la bocca e mostrò a tutti i denti, ci furono molte fughe e delle più indecenti tra meraviglia e confusione, il suo corpo subì una trasformazione è come se non gli avessero mai tolto la vita si rialzò tra la bolla impazzita, ora parlo e son padrone di parola voglio dire una cosa sola, per chi mi vuole ascoltare su in piedi e cominciate a lottare per chi mi vuole ascoltare su in piedi e cominciate a lottare per chi mi vuole ascoltare su in piedi e cominciate a lottare per chi mi vuole ascoltare Grazie a tutti.